E' a cazzo è, perché hai male tu? Seguirà un fuoco. E' il piccato! Eh, mi sa che qua dobbiamo tagliare tutto quanto, eh. Perché? Oltre che bruciate, saranno pure schiacciate. Ma perché non voglia le vendi tu, che stai sempre vendendo tutto qua? Le belle di negro, no! Ma sentite cosa hai detto? Borgondau! E' fin di te, ma cosa stai facendo? Da poi lasciare i migliori niente e lo pigliaremo a corrotto. Ma cosa cazzo v'entra, va? Dammi i 500 mila! Un cazzo! Quanti si guarda? Ma tu ma quel cazzo così! 35, se no tu un nuovo amico, tu un nuovo amico! Ma io ti dico cosa deve fare anche io. Brutto di legno verde. Oisetta! Oisetta, ti dico i 200 mila! Tutto il giorno vedete i roroti a tendini! A roroti a tendini! 200 mila lire! Manco per i coglioni li faccio con i roroti all'a tendini, io! Lì! Ebbè, cucugnà, atti i brighi! Pensate di sì! Mie che tu hai sentito che dà! Aio! Piggia le stratte andemmo! Ma quando tu vedevi pensare a un pacco di coglioni, ma io non so! Aio! Ma ce l'hai compreso, sti! Che papà, hai dove ne strattemmo nei coglioni e da voi ne ripochemmo pure a te! Ce l'hai compreso, sti! Aio! Cazzo, ogni dichiaro che ha fatto qui, c'è un senso là, bubù! Ma! Ma, c'è qualcosa di occhi? Ah, te ne puoi andare, se o no, che non sono cose di femmina queste! Oh! Però! È stato bello! Sì, succede la da froscio! Senti qui, tu! E tu! E tu te la racconti! Meglio a perderteli coglioni! A vero, aio, aio! Andiamo via! Mamma mia! Fermatevi! Fermatevi! Siete dei bigliacchi! Uomini senza palle!